Siamo pronti con tutta la ciurma, ciurma 1, 2, 3 Ciao, saluta C'è anche Armandino, Armandino con le ciabbi Stiamo andando giù a fare colazione, guardate come siamo belli Siamo bellissimi, possiamo vedere Una prima mattina siamo bella, senza trucco Ragazzi siamo a Dubai Ragazzi siamo a Dubai, però veramente questo vlog Siamo riveliati, ma non ho iniziato nel modo migliore questa vacanza Poi vi racconto, nel corso del vlog mamma mia Mamma mia, vogliamo fare una bella colazione perché siamo riveliati E niente ragazzi, buongiorno e buona colazione Amore saluta Amore saluta Amore saluta Ciao Buongiorno 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 Ciao Buongiorno Abenقي Buongiorno Uhhh Perciò Ragazzi ma vi faccio un giro panoramico Ci sono le omelette Qua ci sono tutte le creme i pancake le graffette Che carine queste cosine, molto molto bello, le marmellatine, o qua c'è il pane da tostare, i cereali che piacciono a Daniel, questi sono i piatti nostri di Armando, è mio, stiamo aspettando la Nutella, ce la portano, ragazzi guardate che bella Nutella che è arrivata, me la metto tutta sul pancake, vai amore, vai anche tu, guardate Armando, vai, vai dappertutto, vai, un po', bella, qua facciamo con il salato, qua invece c'è tutto il salato, non so cosa siano queste cose, però ci sono, questo è il muesli, questo è questo yogurt, questo non so cosa sia, penso altro yogurt, queste cose che noi non tocchiamo proprio, salati, cereali, questo non so cosa sia, questo, questo dopo ce lo prendiamo, vedete, salato, assaggiamo un po' di salato, qua c'è la frutta, guardami, è buono a mamma, parliamo con colazione salata, salata, cioè dolce, scusate, sombriaco, colazione dolce, poi dopo salato, come è a mamma, buono? Ragazzi, invece qua ci sono tutte le cose, vedete i pustel, tutte le cose calde, salate, o qua che cos'è, del pollo, qua ci sono le uova, che mi prenderò adesso, poi c'è il porridge, poi c'è il porridge, poi c'è i fagioli, poi c'è le cotolette di qualcosa, poi c'è l'insalata, 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 pure l'insalata, l'insalata, anche i noodles, duro! Ok, procedo, ragazzi, e dopo il dolce, il salato, guardate qua, le uova, il prosciutto, il wustel, il pane, il formaggio, qua abbiamo Armandino, Dario, e Daniel sta mangiando il formaggio, com'è il formaggio? Sì, mamma mia, siamo venuti un attimo in camera, siamo crollati, abbiamo ancora jet lag, comunque questa è la vista dalla camera, c'è sta questa finestrone enorme, bellissima, poi faccio il prossimo vlog, faccio il tour della stanza, ma comunque fa paura, non so riuscire a capire, qua sopra fa paura, sembra di cadere giù da telemacchine, è bellissimo, bello, enorme, grattacieli enormi, guardate il mio look di oggi, devo scattare delle foto, qua a Dubai, ho messo questa maglietta che è tutta tipo brillantinata, guardate quanto è bella, ve la faccio vedere da vicino, adoro, bellissima, c'è Daniel che vuole cercare di entrare, ma l'ho chiuso fuori, qua ovviamente mi sono portata tutti i prodotti Carlita Shop, tutti i prodotti Carlita Shop, vedete abbiamo attivato una promo su tutto il sito Carlita Shop, abbiamo attivato il codice Dubai20 che vi dà il 20% di sconto senza spesa minima su tutto il sito, quindi anche voi di Youtube potete approfittare, il codice è valido anche sui prodotti Carlita Beauty e anche sui solari, infatti mi sono portata, vedete, perla di idea, la crema perfezionatrice, pelle di seta, il peeling enzimatico anti imperfezioni e filtro bellezza, la maschera anti imperfezioni, che avevo finito e me la sono ripresa perché l'amo, non posso vivere senza, poi mi sono portata un po' di prodottini per la skin care, ad esempio questo tonico che amo e toglie tutte le macchie, le imperfezioni, i brufoletti, come contornocchi mi sono portato questo perché anche avevo finito di splendi, mi sono fatta la valigia a volo, mi sono portata questo che è un ottimo contornocchi, idratante anti lughe, ve lo consiglio, lo trovate sempre, su Carita Shop, mi sono portata un po' di spray contro le zanzare, protettivo anche dopo puntura, per struccarmi l'acqua e fiori d'arancio e la mousse detergente, questa qua purificante di Eteria, per i capelli il termoprotettore, questo qua extra liscio di Alchemilla e la crema modellante capelli ricci, effetto wave, adoro, poi mi sono portata anche l'olio anticellulite, che io lo utilizzo sempre questo di Eteria, faccio sempre dei massaggi, mi sono portata l'acqua profumata almonoi, insomma, allo spray, il siro alla vitamina C, che è essenziale, lo metto sempre prima della crema viso, raga è veramente una bomba questo siro alla vitamina C, perché aiuta tantissimo contro le macchie e le imperfezioni, e con l'esposizione solare vengono fuori le macchie, infatti le protezioni stanno qua, questi sono i doposole, e mi sono portata anche questa crema, l'aloe vera, crema che mi ha fatto togliere tutto il bruciore che avevo, che avevo fatto, che avevo per l'abbronzatura, raga è favolosa, utilizzata come doposole, è veramente ottima, all'aloe vera, e poi è super super idratante e profumata, ve la straconsiglio, per due solari sto utilizzando questi di Eteria, protezione 30 per me, protezione 50 per Daniel, e poi per il viso sto utilizzando queste due, questa che è praticamente la protezione C con la vitamina C, e beta carotene, sempre protezione 50, crema che invece è di Eteria, protezione 30 per il viso, quindi questi sto utilizzando, sono ottimi veramente come solari, veramente favolosi, e poi per il make up avevo supportato un sacco di cose qua, tra l'altro questa è la Glorious Palette, ed è quella che ho messo anche sugli occhi, e che avevo messo anche lilla, una volta ho fatto una live sull'altro social, su TikTok, e anche su IG, mi chiedete sempre quali sono questi glitter, io utilizzo sempre questa qua, e anche su Nabla avete il 20% di sconto su Carlita Shop con Dubai 20, quindi per tutto il tempo del mio soggiorno, anche dopo, quando vedrete questi video, e attivo il codice, io questa palette ve la straconsiglio, direttamente con le dita, applico il prodotto, comunque adesso andiamo, se comunque stiamo andando a Dubai Moon, MUL, 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 Comunque non sapete che è successo Praticamente Abbiamo preso Un tassista Però prima di questo Che praticamente Non sapeva proprio portare la macchina Stavamo facendo un incidente Non vi dico come è iniziata questa vacanza Non ve lo dico proprio Fortunatamente abbiamo subito cambiato Poi mi mettevo paura perché comunque stavo con Daniel Abbiamo subito Cambiato E abbiamo preso questo tassista che invece Sembra bravo E ora stiamo andando a questo centro commerciale Bellissimo e famosissimo E vedete con un po' la strada Tutti questi piattacini Guardate un po' è bello Guardate com'è bello Guarda mamma guarda Oh ma perché Pattacini Pattacini Saluta Daniel Saluta Daniel Saluta Ciao Non baci Non baci Fa un caldo tremendo Fa un caldo da pazzi Quando siamo usciti dall'aeroporto Si è preparato di essere entrato in un forno Ieri siamo andati a mare E l'acqua è caldissima Bello Però si sta bello Ragazzi guardate che bello qui Bellissimo 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 Che duro Quello è Bushi Califa Guardate quanto è alto Super azzurra quest'acqua Ma facciamo una bella foto per il G Daniel che si lamenta Daniel ma che c'è a mamma? Vuoi comprare un gioco Vuoi comprare un gioco? Voglio un gioco Voglio un gioco Voglio un gioco E ora andiamo a comprare Sta là Sta là Ragazzi guardate com'è bello Questo acquario Che c'è qua dentro Daniel ti piace Guarda la scuola come ti guarda Quanti scuoli E pesci Enorme ragazzi E gigante Guardate No è bellissimo Guarda 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 Guardate che bello Ho appena fatto il bagno qua Mamma mia Super bello Con tutti i craccacieli Sono tutti i craccacieli Solo che adesso ho freddissimo Però è stato super emozionante È stata la cosa più bella Che ho fatto Finora Mamma mia Troppo bello Ragazzi C'è ancora la gente C'è la gente a mare C'è la gente a mare Che fa il bagno Bellissimo Mamma Amore L'aereo L'aereo Si comunque guardate qua Tante aerea La fame Vi devo far vedere dal cellulare Perché Non ci credete Cioè questa è storta Dove siamo andati a mangiare In un ristorante italiano Perché avevamo troppa fame Di italiano Vi abbiamo preso la pasta Daniele Daniele la pizza Daniele la pizza Amando e calzone E Dario anche la pizza Ecco questo è Daniele che mangia E che avevo troppa fame E mi sono proprio dimenticata Di farvi il video Vero amore Com'era la pasta? Buona Buona E ora che stai parlando? Pronto? Con papà? Sì Dici pronto? Pronto Mi portate una pizza? Una pizza Ma tu già l'hai mangiata la pizza È vero? Sì Come era buona? Sì Comunque raga Mamma mia Ci siamo consolati Abbiamo fatto una bella mangiata E mi spiace solo Che ve la devo far vedere dal cellulare Perché mi sono dimenticata Proprio di filmare Mi sto rilassando molto Mi sto godendo Anche la vacanza Vi dico la verità Anche sto facendo Anche molto i tiktok Quindi venite Venite anche su tiktok Venite a seguirmi anche su tiktok Vero? Questo Sì Aspetta Fai così Fa il video così Ok Dici ciao Io sono Daniel Mamma Eh Avanti Ok No Tutto il controllo Così riprendi a me Così Dici ciao Io sono Daniel Ciao Io sono Daniel Quanti anni? E ho? Quanti anni? Così Ti vede? Guardate Guardate E dove sei? Dove ti trovi adesso? A casa Con Armando Con Armando A Dubai A Dubai A Dubai Vero? Ti stai divertendo? Ti stai divertendo? E vuoi andare a scura? Andare a scura Tu vuoi andare a scura? Sì Ah vuoi andare a scura? Domani O vuoi restare qua? Romani Domani vuoi andare a scura? Con la maestra Rachele? Eh dopo Ah va bene Aspetta mo Non Non farmi medite Ok